Com'era scusate? Com'era? Jannik Sinner? Hai finito? Jannik Sinner non giocherà più una partita da qui a fine anno? Tutta pretattica? Non lo so, fatto sta, concedetemelo, Jannik Sinner è tornato. Che bello, che bello vederlo giocare, ero al lavoro, ho visto degli ispezioni, mi sono recuperato la partita e devo dire, che soddisfazione vedere il nostro Jannik tornare. 1, 2, 3, 3-0 a casa, Eubanks avanti, meglio che vai a giocare sul veloce con tutto rispetto per lo statunitense ma non ci ha capito nulla, credo che abbia veramente le travegole perché Sinner ha dimostrato di essere veramente un fuoriclasse e voi direte, eh ma contro Eubanks è facile, non fa testo, però io so che tanti erano lì sul Trespolo erano pronti e aspettavano la caduta così di Jannik Sinner, pronti a criticarlo, pronti a dire ecco, vedi, se sei in queste condizioni è meglio che non ti presenti, eccetera, eccetera, eccetera perché so benissimo come funziona. Invece Jannik, con la massima serenità, 3-7 a 0, Eubanks a casa. Sotto chi tocca, Gasquet, onore e merito per la carriera di Richard Gasquet, ha battuto in tre ore e mezza 3-7 a 0, Koric. Jannik, ottima partita, ottimo giocatore, ma il futuro non è di Gasquet, è di Jannik Sinner, quindi andiamo Jannik e io come titolo del video voglio perdere la testa quest'oggi per la felicità di aver ritrovato il mio Jannik Sinner. Ho già fatto un video serio e in questo Roland Garros vorrò alternare un video serio e un video così, proprio emotivo, di quelli che, sì, forse è vero, appartengono poco al mondo del tennis, ma scusate, mi interessa poco, perché io, codice bianconero, sono felice, sono felice di vedere Sinner tornare a giocare, di vedere Sinner che sta bene, anche se le sue dichiarazioni del post partita giustamente sono state che non è al 100%, ma vi dico, se Sinner fosse al 100% faceva Bagel 6-0, 6-0, 6-0 contro Eubanks, portate pazienza, ma io la vedo così, e vi dirò di più. Io credo che questo Jannik Sinner ha tutte le carte in regola per vincere il Roland Garros. Vi dirò di più, io mi sbilancio. Avevo detto 20%, mi alzo anche in piedi. Jannik Sinner vincerà il Roland Garros 2024. Io l'ho detto, segnatevelo, segnatevelo, criticatemi, insultatemi, fate quello che volete, però io ho il coraggio di dirlo. Per me Sinner trionferà in quel di Parigi. Perché? Perché Sinner è un giocatore di un'altra categoria, vale più di Alcaraz. Diokovic non è il Diokovic che ci ha abituati, sicuramente paragonare Sinner a Diokovic è presto, ma io in Sinner credo tanto e io voglio che Jannik Sinner venga spinto da tutti noi. Quindi io dico, Jannik vai, sarebbe un'impresa, sarebbe qualcosa di clamoroso, però io lo dico, io voglio sbilanciarmi perché è facile rimanere equilibrati, come anche ho sempre fatto e dire, sì vediamo partita dopo partita, di qua, di là, giustissimo, ci mancherebbe altro, è giusto. Però a volte ci vogliono anche, scusate il termine, le palle di sbilanciarsi, di metterci la faccia, io ci metto la faccia. Io dico che Jannik Sinner triunferà a Roland Garros 2024, sarà un'impresa clamorosa, sarà un'impresa storica, secondo slam dell'anno, però io ci credo. Detto questo, non voglio passare per presuntuoso, anche se magari qualcuno di voi lo penserà, ma chi mi segue sa chi sono, sa la tipologia di video che porto, non sono video così, sto viaggiando su un'onda emotiva che mi mancava, perché un mese senza Sinner sinceramente non ha lo stesso sapore di un mese con Sinner. Posso dirlo? Ne ho il diritto? Sì. Quindi grande Jannik, ripeto, Yubank, se è meglio che ti dai il veloce, perché la terra rossa non fa per te. Sotto chi tocca, Gasquet, Norri, Urkratz, Dimitrov. Io voglio sotterrarli tutti, con tutto rispetto, e poi andare allo scontro contro Carlos Alcaraz in semifinale. Io voglio e aspetto quella sfida da seguire in diretta con voi e spingere il nostro Jannik verso il sogno, vincere il Roland Garros. Ci credo oggi più che mai. E voi direte, ma come fai a essere così spavaldo dopo aver battuto Yubanks? E io vi dico, sapete il perché? Perché tanti, e non nel mio canale perché io rispetto tantissimo la community e tutti voi che siete spettatori abituali, anche i nuovi, e vi invito ad iscrivervi, a mettermi piace, tanti erano lì che aspettavano la caduta di Sinner e tanti non ci credevano. Io invece ci ho sempre creduto in Jannik Sinner e i miei video sono lì a testimoniarlo. E io dopo che ho visto oggi le indicazioni che mi ha dato Sinner, io ci credo oggi più che mai. Detto questo, non vedo l'ora di vedere il match contro Gasquet. Iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, vi abbraccio tutti. Forza Jannik Sinner!